... del regime inaugurate nella pittoresca cittadina di Rocca San Casciano, in provincia di Porlì, da donna Rachele Mussolini, fatta segno a vibranti manifestazioni di affetto da parte della popolazione. Il municipio. Il grande ponte in ferro della luce di 50 metri, sul rettifilo della nuova strada statale Tosco-Romagnola. Bimbi festanti accolgono la consorte del duce dinanzi alle scuole elementari Rosa Maltoni Mussolini e alla casa del Balilla.